io al sesto vlog al sesto al sesto vlog al sesto vlog al sesto vlog lo stesso cappelli florescenti mi bagnano la vagina ehi si dicono queste cosa io razzella allora c'è mi pisello come sempre prima di tutto ringraziamo per il trentasette mi piace su youtube 717 7 217 sono pochi comunque voglio dire un fatto serio mi girano quando vivi ho le richieste su farm la città la mia campagna le pecore anno fa beh chi fa tu sei una capra se zitta capra 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 e zitta è anche carino come gioco quindi cliccate là sulla notifica perchè è bello e soprattutto perchè mi serve l'aiuto poi si si i video perchè i video perchè perchè lo vuoi dire allora sta luce qua ah giusto un momento ho pagna a destra no no quella aspetta a a a a questo testo di vitt c 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 la pop se la norma c la va ma ma se mi c mi no che ci l e allora niente più video perchè siamo impegnati con la scuola io ho io ho io ho io ho no con la scuola io con la statale 16 sono impegnato eh lo so perchè appunto abbiamo e poi io gioco anche a minecraft quindi dovete capirmi finchè mi costruisco la casa ce ne vuole di tempo ehm niente che dire che forse che testa di casco oggi è giovedì giovedì 25 oggi 24 ignorante belantuno 25 ieri era la fiera e era 23 se la cv tc in colpa della schiava 25 si ok un attimo ehm quindi non l'abbiamo fatto domenica abbiamo fatto giovedì perchè per ritardo eh ma che segnerò mai avuto io ho fatto giovedì per la di ritardo per do te e spacco culo colore non fa ridere non fa ridere non fa ridere neanche i polli e quindi dicevo si ehm forse sicuro oggi 25 forse domani che venerdì 26 forse pollo 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 combina guai la luce se ne sta andando di luce di luce qualcuno ti sta chiamando vai vedere siamo impegnati grazie l'idea vedete il mio bel culo mi piace chi è? mi piace chi è? ciao bello aspetta ciao 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 ho fatto il psichetto cazzo di però anche il casco di video non si dicono parolacci in questo video quindi forse perché quando devo guardare abbiamo lo specchio quindi ehm cazzo domani forse arriva il video vuole solo dire che mi per favore mandate le richieste a farlo perchè se vuoi la tipica vera ... Eh niente ah no giuro, cosa è vero Di quanto lo stiamo facendo? cinque minuti e trenta quattro secondi ero area che ha messo nei denti bianchi eh voglio salutare nessuno no sto scherzando grazie a tutti 217 persone che in realtà sono 4 e 5 ci si vede grazie a tutte le 37 persone su film su youtube che almeno quella è la si mette con i pelli di mio mette mi piace aia eh kakus ma mettete un po' che domani ho piaciuto ho detto mettete un po' di mi piace di più non è bene eh niente l'ho detto alla lingua pulis alla lingua pulis e niente grazie prossimo video quale sarà non si dirà e il burro se lo panterà ciao a tutti no quando si fosse amore è una cosa semplice noi lo dobbiamo dire perchè sarà adesso 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 a sorpresa te lo dimostro no lo sappiamo mi sono fatto la barba minchia eh vuol dire non barba che è un ciao dove rossi ricorda 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 si dice ht no ht certe persone che ci fermano hai capito per cercare ciao ht ciao ht ciao ht ciao ht ah voglio ma che cosa è la cacca di mose se giulia gravini o garabini non lo so sto guardando questo video guarda ti ringrazio per tutti i commenti grazie di mi piace perchè no ci sostiene e grazie 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 niente siamo a 7 minuti ma è un bici ma è un bici buonanotte a tutti 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 buonanotte a chi dorme sono quelli che aperti chi dorme non piglia pesci ahahah ha fatto una battuta è un palmino sedita guarda che ride ciao lui è ht chi è ht tu sei ht io sono thai ciao